ciao benvenuti in un nuovo video allora oggi sono felice e contenta perché my beauty box di cui abbiamo aperto una box qualche tempo fa che è un servizio di box mensile con abbonamento completamente made in italy ha pensato di farmi un regalino natalizio poi coi problemi dei 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 corriere che è stato un macello il corriere subito diceva che l'indirizzo non esisteva perfetto perché normalmente ricevo dai cinque sei pacchi al giorno ma l'indirizzo non esisteva quindi è rimasta in giacenza e poi dopo stranamente destinatario assente alle cinque di pomeriggio che io ero a casa e poi finalmente e ci siamo sentiti e sono riuscita ad avere il pacco però a questo punto era passato natale ma va benissimo lo stesso anzi fossero questi problemi va bene tutti i giorni allora ero curiosa di vedere questa box che era un regalo natalizio quindi è stata anche molto molto carina l'azienda che la ringrazio ed è perché era una cosa assolutamente inaspettata allora io direi di iniziare ad aprirla per lo sono tolta dalla confezione che era in plastica ora la apriamo così e vedo la prima cosa che vedo è questo foglio che normalmente ha lo spoiler e a reason to she ma ragione per brillare è proprio era natalizia proprio che bella che bella e si no ma no 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 fermi qui ci sono i spoiler noi andiamo a vedere i prodotti direttamente e quindi l'apriamo non so come si presenta l'apritte voi prima l'apriamo la guardate voi poi io non mi ricordo se c'ha delle dei fogli o no prima ok chiusa allora aspettate ok wow guardate prima la vedo bella gonfia ci sono un sacco di cose mettiamo qui e scusatemi ma la prima cosa che vedo christmas tea di yojiti cioè parliamone parliamone perché io lo adoro yojiti lo adoro e mi ha sempre piaciuto tantissimo l'unica cosa è che ho smesso di acquistarlo perché non lo trovo e tranne che la natura si non si trova e questo infuso di erbe e spezie e natalizio io ho una scatola natalizia delle christmas tea di anni anni fa magari dopo vedo se riesco a trovarlo 17 bustine con robuà cannella liquirizia coriandolo o nei brush cos'è scorza di arancia chiodi di garofano pepe nero anice succo di limone disidratato anice stellato cardamomo cicoria olio di essenziale di cannella e olio essenziale d'arancia scusate io devono usarlo da che parte si apre beh noi l'apriamo di qua vado piano perché la scatola voglio tenerla come le altre intanto se vedete che butto l'occhio butto l'occhio la telecamera esterna perché ci sono sempre dei movimenti così dentro le bustine sono più quei speziato è speziatissimo è perfetto per l'inverno adesso ne sto bevendo un'altra della pompa d'ur zenzero e limone quindi speziate in inverno per me è perfetto andiamo avanti perché qui ci sono ancora un sacco di cose e voglio vedere questa no vabbè bronchenolo immuno triplazione difese immunitarie vie respiratorie ed energia integratore alimentare con estratti vegetali vitamine minerali effettivamente serve sempre e neanche la buona idea perché non lo sapevo 16 pastiglie gusto sambuco e ribes nero della bronchenolo nuovo effettivamente senza glutine senza lattosio adatto ai vegetariani le pastiglie sono queste sono dure immagino che siano da sciogliere in bocca perché da ingoiare un po' tanto beh allora le vitamine adesso non so quanta vitamina c 80 milligrammi a due pastiglie al giorno aiuta a riniera raffreddore tosse favorisce la fluidità delle secrezioni bronchiali serve e supporta le funzionalità delle vie respiratorie e chinacea vitamina c selenio zinco perfetto ragazzi questo non lo conoscevo mi piace my beauty box perché c'è di tutto dentro tisane bronchenolo vedo ancora un sacco di cose ma questo l'ho vista subito e quindi ve la faccio vedere night lacquer e opi c'è uno smalto per unghie dell'opi in full size il colore live love carnival è un rosa bello ragazzi l'opi c'è cosa vengono 15 euro questi smalti 15 19 non lo so dovrei guardare al momento ma capiamoci sapete che non so se su spoiler c'è il prezzo no non c'è dice solo full o travel size quindi non lo guardiamo andiamo avanti perché vedo tante cose ancora allora jazzae jazzae degli defense essenzia idrate previ spf 20 uva uvb jazzae io un marchio mai sentito però è un made in italy quindi questo è un siero difesa idratante si è incollato oddio non è che è uscito è uscito del prodotto è un po sì un po sì perché non è racchiuso non è racchiuso tanto bene questo va bene che è il cleanser cleanser idratante quotidiano speriamo che non abbia faccio troppi danni vedremo ma no ma no e quindi scusate il profumo è buono però a questo punto devo capire meglio questo marchio magari cerchiamo di leggere solo loro jazzae ispirata alla filosofia minimalista asiatica jazzae ha creato una skin care routine semplice naturale delicata adatta a tutti i tipi di pelle allora il cleanser detergente viso delicato che è questo quello che è uscito è proprio uscito non so quanto ce ne sia rimasto dentro ma non importa per una volta sicuramente ce ne sarà ed è un 10 ml è il detergente made in italy vegan curly vegan friendly e curly free ci piace e invece idrati in daily defense crema da giorno idratante con fattore di protezione spf 20 è sempre un 10 ml e ci piace allora mettiamo qui perché ci sono tante altre cose ne vedo una molto molto interessante ma andiamo avanti con questo che è il system native shampoo micellare da 50 ml 92 per cento e ingredienti d'origine naturale profumo buono shampoo micellare beh è naturale ci piace andiamo a leggere anche lui system professional attrae l'impurità e le rimuove delicatamente su cute e capelli ed è tossina ed è senza parabeni solfate e siliconi ci piace anche questo ma quello che volevo vedere io ma lo lascio per ultimo perché ho visto un'altra cosa agenda my beauty box 2021 in collaborazione con amica bella è un'agenda settimanale bella anche come formato che probabilmente era sulla rivista amica e noi l'abbiamo avuta aspettate forse c'è scritto qualcosa amica 2020 ok supplemento di amica numero 12 2020 quelle di dicembre ok ci piace le agende sono sempre ben accette e l'ultima cosa che adesso tiro fuori perché poi la box è vuota e la metto qui l'ultima cosa che volevo vedere la palette scusate ci tolgo solo un secondo il detergente che c'è finito sopra ok la palette della essence o la rio la palette di ombretti la cosa che ci piace che vedo già da adesso che c'è la pellicola ma apriamo è integra è integra apriamola specchio e questa è la palette e adesso andiamo a rimuovere la pellicola no vabbè bella bella ci piace che bella ci piace iniziamo a testarla subito sì 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 iniziamo a testarla allora alla fine la scatola è asciutta quindi non è uscito tanto prodotto e ci piace dunque vediamo un attimo questa box perché c'è di tutto allora la palette bellissima ah oltretutto dovrei guardare il prezzo ma se non sbaglio è sui 19 euro al mese vediamo un po' il valore più o meno allora la palette non mi ricordo se è quella da 9 o 11 euro ma consideriamo smart dell'opi che è un full size non mi ricordo se è 15 o 19 euro quindi anche solo lui va a pagare quasi tutta la palette questo penso che sia un omaggio quindi non lo non includiamo perché non è vendibile e system professional lo shampoo questi due prodotti che sono curiosa di provare dell'abbiamo detto yasai yasai o yasai poi il bronchenolo non so quanto possa costare ma cioè il prezzo della farmacia quindi 9, 10, 12 euro non lo so e la yojiti cioè felicissima perché erano anni che non la che non la prendevo perché c'è solo la natura sì e neanche tutti i gusti però mi piacerà tantissimo quindi felicissima e questo video è stato secondo me abbastanza lungo già così devo prendere la brochure scusate per vedere se c'è qualcos'altro che manca mi viene da ridere sul bronchenolo e siccome teniamo molto anche al vostro benessere vi consigliamo di provare subito bronchenolo immuno il nuovo integratore immunostimolante ok codice ah niente c'era un codice che potevo darvi ma è già scaduto fino al 13 dicembre mi dispiace però secondo me è una è una bella box sicuramente ho trovato il detergente anche qui ho paura che il detergente e quello per il viso ce ne sia rimasto poco nella box ma succede e niente fatemi sapere se questo video vi è piaciuto se questo tipo di box vi piace io ringrazio My Beauty Box per questo regalo abbiamo avuto qualche problema logistico con i corrieri forse anche per quello poverino che è detergente è uscito ma ragazze la palette di ombretti è intatta quindi quella è super super importante e quindi evviva evviva per quello e niente noi ci vediamo al prossimo video ciao ehi sono qui ciao ti sei ricordato di mettere un commentino mi raccomando mettilo qui sotto e ricorda di essere iscritto al mio canale solo così potrai ricevere un regalino da me lo sai che estraggo ogni mese ciao ciao